10, 11, 12 settembre, 430 espositori, 26 varchi in cui a campione può essere richiesto il Green Pass obbligatorio per accedere all'evento. Sono questi i numeri e i vincoli di una fiera di San Nicola che da questa mattina è tornata ad affollare il lungomare di Pesero dopo un anno di stop imposto dalla pandemia. E si è ricominciato con una cura dimagrante fra gli stand, erano circa 700 nell'ultima edizione 2019, oggi sono parecchi di meno, 450 quelli stimati giorni fa, 430 quelli risultati all'ultimo appello di oggi. Defezioni motivate anche da norme di sicurezza e Green Pass che non convincono del tutto ma che, lo ricordiamo, dal 6 agosto prevedono a termini di legge l'obbligatorietà delle certificazioni in eventi come le fiere, qual è quella di San Nicola. Naturalmente la fiera è un evento aperto che concentra quasi per intero la zona mare pesarese e allora ecco che per chi transita in questa zona senza accedere agli stand ma semplicemente per un ultimo weekend in spiaggia o per andare in bar, ristoranti o negozi, il Green Pass non è richiesto ma per evitare incomprensioni è consigliabile transitare nei marciapiedi o alle spalle degli stand. È giusto, non è vincolante, comunque qui non l'hanno controllato finora, ho visto che fanno a campione, per me non è un problema, io sono contenta di averlo e invito tutti a prenderlo. Tanti pesaresi si sono fatti trovare pronti alla prova della certificazione verde controllata a campione ma anche i turisti si sono presentati alla fiera ben informati sull'obbligo in questione. Abbiamo andato in albergo, si è stato controllato, mi sono trovato bene, il posto è ottimo, la fiera è ottima, non posso lamentarmi. È però bene ricordare che in questi tre giorni anche per chi non va alla fiera ma transita in questo tratto di lungomare è richiesto l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Controlli dunque attivi con steward e polizia locale che hanno allestito un loro quartier generale fra Viale Zara e Viale Trieste, controlli al Green Pass e controlli anche ai venditori abusivi. Per il resto i protagonisti sono quelli di sempre, cittadini e turisti tornati agli acquisti alla fiera di San Nicola dopo un anno di assenza e gli stand dei tanti espositori commercio in commercio di ogni genere oltre ai tanti punti di ristoro. Tutti gli anni veniamo qui molto soddisfatti perché è una fiera che si lavora, però quest'anno con questo Green Pass non so se viene la gente, se non viene, non lo so. Questo Green Pass ha condizionato però la vostra scelta? L'altra fiera che abbiamo fatto? Assolutamente no, le abbiamo fatte altre, in tante regioni lo chiedono, in tante no, basta portare la mascherina senza chiedere Green Pass. Io perché faccio anche mercato a Pesaro in martedì, è anni che vengo a Pesaro, ormai ho più di 40 anni, il Green Pass si ci ha creato dei problemi, io sinceramente la fiera San Nicola non l'ho fatta per questo problema qui, Green Pass. Ho provato a farlo a Pesaro per vedere come viene, solo che è un problema per noi, è grave, il problema nostro è sempre con l'attenzione, chiedo alla gente di stare a distanza, non molto appiccicato, varie cose, non va bene. Speriamo che sia l'ultima perché il Green Pass ce l'abbiamo tutti, ci stiamo vaccinando, però uno che si vaccina una volta, due, adesso parliamo anche la terza, però questo qua è quello che danneggia di più, nel modo di parlare con le persone, dimostrarci tutto, tutto qua. Questi dunque i pareri del primo giorno di fiera, il secondo invece avrà un ospite d'eccezione in più, il camper vaccinale che nella giornata di sabato offrerà servizi di vaccinazione dalle 8.30 alle 13.30, dalle 14.30 alle 20. Ci si può presentare, compilare i moduli e vaccinarsi senza prenotazione, una modalità di vaccino che sta riscuotendo buoni riscontri fra gli ultimi ritardari della profilassi. E vaccinarsi in questo contesto significa istantaneamente ottenere il Green Pass anche per accedere alla fiera di San Nicola. La stessa certificazione si può ottenere anche con i tamponi rapidi, non a caso le farmacie, specialmente quelle di centro e zona mare, si sono attrezzate per ricevere un gran numero di persone che potrebbero voler effettuare questo test.